Musica 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 Mi raccomando Musica Mi 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 raccomando Bombers, 20.000 mi piace per quanto è stupido Zappigno Scrivete qua sotto nei commenti quanti palleggi faremo No, io lascio Allora, around the world, così Adesso sta qua, cioè il vento adesso è sparito Sono tre, sono quattro Sono quattro Ma io direi rig, prova tu Quindi devi fare rig, sto qua Grazie Prova a superarne sette, vai 8 Se avessi fatto una round world, una round world Una round world E la tecnologia timeline di Zappigno Che va praticamente a considerare un effetto vento Oggi questo effetto world Un effetto vento enosfera contro il palloncino Che va a colpire i legamenti del ginocchio Automaticamente il palloncino non va bene per gli anamici Voglio fare un test se è così potente Posso il piede sopra il palloncino e vediamo se riuscirà a scoppiarlo Allora, ciao! Allora, ciao!